Lo sciismo è un raduno festivo, un festival, una festa, una costellazione di buone maniere morali, un impegno, una convinzione, una memoria mobile. Il suo pezzo forte è lo sguainamento di un pugnale, per davvero sempre estratto a metà del suo fodero logoro, sempre pronto a cambiare le proprie metafore. Lo sciismo è anche una lanterna di speranza alzata nella disperazione, una bandiera verde, un indicatore rosso di martirio, sacrificio, rinnovamento e resurrezione. Lo sciismo è il ricordo luccicante di un evento, di un sogno, di un singolo incidente traumatico, condannato per sempre a cercare di ricordare se stesso, in vano. Lo sciismo è la dannazione condannata di pensare di aver visto e avuto una visione e poi provare per tutta la vita una storia, l'arco di un verso dell'universo cosmico a ricordarlo, a realizzarlo, tutto inutilmente. Lo sciismo è la versione islamica del mito di Sissifo, condannato a far rotolare la finzione della propria realtà su per la collina, contro il grano della storia, per poi guardarla rotolare irrimediabilmente, fino al punto zero della sua ciclica disperazione per la salvezza. Lo sciismo è di colore cremisi. Lo sciismo è di colore cremisi per il suo ricordo rituale dell'assassinio a sangue freddo, del nipote del profeta Hossein Ibn Ali, verde nella sua memoria delle provvidenziali assicurazioni che un giorno tutto andrà bene, che il caos del mondo sarà bandito, bianco, pieno di vuota determinazione a indossare il sudario di Shah Adat, per testimoniare con la tua vita appena prima di scendere nella morte, nella nullità, nella nullità appena prima di risorgere, per essere un testimone e per testimoniare di nuovo, quindi per rendere conto di chi e cosa eri, di cosa siamo, dovremmo essere, per ciò che abbiamo fatto bene e cosa abbiamo fatto male, se eravamo giusti o no. Lo sciismo è una fede cieca, una rassicurazione ragionata, un mandato morale, un arazzo intellettuale, un modo di non arrendersi alla storia, al mondo. E' la magia piena di significato che tiene insieme i tuoi giorni che passano, le tue notti sussurrate, piene di santi silenzi e piene di suggestivi gesti di rivolta. Lo sciismo è una religione delle speranze delle madri, insanguinata dalla vendetta dei padri, dalla vendetta, pagata dai figli e dalle figlie di una morte significativa. Lo sciismo parla persiano, prega in arabo, sussurra in urdu, canta in turco, gioca con ricordi mimetici di cose passate, perennemente alla recherche du temps perduu. Lo sciismo è una religione di protesta, nata e cresciuta sulla spina dorsale di una storia combattiva, una storia andata per gli sciti, storta. Nasce un profeta, viene inviato un messaggero, il messaggero viene e il messaggero va, la divinità si rivela, si forma doverosamente una comunità, si dichiara trionfante una fede e prende forma una credenza, una dottrina che non vuole lasciare andare la memoria carismatica, il momento estatico, la persona avvolgente del profeta. Così lo investe in un altro uomo, un uomo buono, un uomo benedetto, un uomo divinamente ordinato a guidare la sua comunità. Ma la storia non concorda, la comunità non segue, la maggioranza pensa la minoranza, sbaglia. Lo sciismo, credendo che Alib Nabi Talib sarebbe dovuto succedere al profeta Muhammad Ibn Abdullah, prende ciò che è accaduto scritto nella storia come il lato sbagliato della realtà, il tempo per i sciti e quindi sempre fuori posto e maledetto a dispetto del fatto che loro fossero nati per sistemare le cose. Vendicativo. Lo sciismo è rivolta. Talimam Mosseina, Karbala, Al-Ayatollah Khomeini in Iran, a Muqtadah, al-Sadr in Iraq, a San Nasrallah in Libano. Lo sciismo è dire no. Dove prospera? Lo sciismo è una maggioranza con un complesso di minoranza. Non è solo che lo sciismo è politico. La politica è sciita nella sua quintessenza. E se il sociologo tedesco dell'era di Weimar, Max Weber, definiva la politica in termini di violenza legittima allo sciismo, sottrae la violenza dal dominio della politica al luogo della metafisica. Perché lo sciismo è nato, non solo politicamente ma anche metafisicamente, quando il suo primissimo imam, Al-Ibn Abi Talib, fu assassinato da un assassino. E quando il figlio di Ali, nipote del profeta, la suprema figura eroica dello sciismo, l'imam Hossein Ibn Ali e i suoi compagni furono massacrati a Karbala. La violenza Genera violenza È una minoranza perseguitata così formata, sublima la sua violenza ricevuta e percepita nel combustibile ardente della sua etica e politica, estetica e metafisica. Qualcosa di quella violenza è scritta nella precisione rettangolare con cui designer e architetti sciiti tagliano e incollano gli squisiti arazzi di colori e disegni sui mosaici, in cima alle cupole che coprono la santità dei loro santi e martiri. Lo sciismo, alla fine, è un paradosso. Cresce ed è trionfante quando è combattivo e conduce una battaglia in salita. Perde la sua autorità morale e la sua voce di sfida nell'istante in cui ha successo ed è al potere. È paradossalmente al potere solo quando non è al potere. Quando è al potere manca di legittimità, autorità e audacia.